Buongiorno Sopi Sopi Sopiia, bravo! Sopiia, bravo! Un minuto! Sopiia, bravo! Un minuto! 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 Filippo Aurelli! Cerca di usare meglio anche quella dopo il campato! Filippo Aurelli! Passa Filippo Aurelli! Dopo all'interno, con la porta Mattia Pappalardo! E siamo aiuti membri di quello che è Mattia! 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 Mattia Pappalardo! Un minuto! Un minuto! Un minuto! Un minuto! Un minuto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.